Winnie Ruth Judd è nata il 29 gennaio 1905 ed è diventata famosa come il tronco assassino. Lavorava come segretaria medica a Phoenix, in Arizona, e condivideva la casa con due amiche. Tutte e tre le ragazze si innamorarono di un uomo d'affari di 44 anni che non le ricambiava. L'uomo aveva una moglie, quindi non aveva scelto ufficialmente nessuna di loro come amante. Tuttavia, questo non impediva alle ragazze di discutere e litigare continuamente in questo contesto. Così un giorno Winnie, in un impeto di rabbia, sparò...